e cosa abbiamo trovato è un ragno abbastanza grande per farvelo vedere questa qua è una piccola tarantola vedete oh è velocissima è velocissimo eccola guardate che bella fantastica guardate i colori questo qua è un ragno errante cioè che non costruisce una vera e propria tana ma cammina 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 in cerca di prede infatti se notate le zampe sono molto muscolose è praticamente perché cammina tutto il giorno in cerca di prede possono anche costruire delle piccole ragnatere ma fanno più che altro buchi scavati nel terreno avvolgono questi buchi con la ragnatera e ci aspettano che la preda arrivi da loro guardate qui guardate che bello fantastica ora la liberiamo nel posto in cui l'abbiamo trovata guardate qui la faccio vedere meglio intanto è passato un cacciatore guardate qui le striature nel cefalo torace che era la testa diciamo del ragno che è un mio l'insieme della testa e del del torace appunto cefalo torace fantastica è tranquilla fantastico ciao ciao ciao